Lassù, sotto quel sombrero, ci dovrebbe essere una spia. Portalo giù. Intero. Qualcosa che non va, Scheriffa? Niente di importante. C'è un curioso lassù. Faine è andato a pregarlo di scendere. Che il cielo protegga il nostro amico. Farà bene a proteggere la spia. Chi sei? Chi ti ha mandato? Emiliano non tradisce, gringo. Emiliano dice tutto, gringo. Sono un uomo della banda di Mescal. Il maggiore ci ha ingaggiati e ha promesso a Mescal, il mio capo, vinti dei suoi stalloni se riusciamo a cacciare dalla valla queste cornacchie. Grazie. 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 Grazie.